Salute a tutti. Mi rivolgo a tutti coloro che sentono di essere vicini, a tutti coloro che sono fuoriusciti o che subiscono ingiustizie, abusi e perdita di diritti umani fondamentali all'interno dell'associazione Torre di Guardia in quanto testimone di Geova. Mi rivolgo a tutti coloro che hanno compreso la selvaggia e fondamentalistica metodologia di questa associazione che opera sul territorio italiano in finte vesti religiose, ovviamente, e che però merita più attenzioni da parte delle istituzioni nazionali, da parte di chi si occupa della tutela dei più deboli, di coloro che tendono a volte ad essere vittime di queste associazioni che con i loro metodi per nulla democratici, ma appunto teocratici tanto quanto gli stati islamici, insomma, in totale fondamentalismo abusano dell'ingenuità, della buona fede, di un momento di debolezza, di fragilità delle coscienze umane per attirarle nell'associazione e poi rastrellare somme ingenti di denaro. Per il mese di aprile stiamo organizzando una campagna, una campagna di informazione dedicata alle istituzioni. Ci stiamo attivando facendo dei format, delle lettere prestampate, insomma, che ciascuno di noi può condividere, a meno che qualcuno ne voglia fare una di tutto di suo pugno, con le proprie idee, ma stiamo creando dei modelli, insomma, dei modelli a cui attenerci per comunicare appunto con le istituzioni. E non si tratta di segnalare questioni teologiche, dottrinali, di credo, no, 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 non trattiamo queste questioni. Non è questo che porteremo all'attenzione delle istituzioni. Probabilmente lo faremo il mese prossimo, nel mese d'aprile concorderemo ancora la data, vi terrò aggiornati, ma entro il mese d'aprile, se tutto va bene, faremo questa spedizione in massa da tutta Italia, scegliendo l'organo istituzionale adatto a cui inviare tutta una serie di lettere da tutti coloro che vorranno partecipare a questa campagna e spero che siano davvero molti. Ne ho fatta una, ho fatto un format, un modello, che potrebbe essere condivisa da chi invece non è mai stato testimone di Geova, non ha mai avuto un'esperienza diretta all'interno di questa associazione, ma che dall'esterno, attraverso vicini di casa, colleghi, parenti, ha modo di osservare l'atteggiamento dei testimoni di Geova, appunto, in quanto servi della società Toro di Guardia e abusati dalla stessa. Ora vi leggo questo format che poi comunque metterò per intero in descrizione, nella descrizione del video, attenzione, quindi lo potete scaricare, lo potete copiare e stampare e tenervi pronti, lo potete personalizzare ovviamente con il vostro nome, con la vostra età, lo potete appunto personalizzare e quando appunto lo indicherò, quando vi sarà indicato, potete spero, spero partecipare, partecipare a questa campagna di solidarietà nei confronti di coloro che sono vittime di questa associazione. Ripeto, questa lettera che vi sto leggendo è adatta a chi non è mai stato, ma che comunque sposa questa causa e vuole sostenere questa causa, mettendo così un freno per meglio regolamentare questa associazione, non per metterla a bando ovviamente, perché hanno il diritto di credere in quello che vogliono, ma regolamentare e sensibilizzare le istituzioni a osservare meglio, più da vicino, questa associazione. Cosa gli scriviamo? Mi chiamo, tal dei tali, di anni X e da buon cittadino e nel rispetto degli ordini costituzionali della nostra nazione e in pieno spirito democratico, ho il dovere civico di segnalare presso organi istituzionali competenti lo strapotere, temo incontrollato, praticato da diverse associazioni settarie, acattoliche, in finta veste religiosa, operanti sul nostro territorio da decenni, anche attraverso metodi invadenti di propaganda selvaggia. Non si tratta di semplice proselitismo e non si tratta neppure di legittima espressione del proprio credo, ma un vero e proprio attacco trasversale alla democrazia attraverso terrorismo psicologico con continui procurati allarmi sociali di preannunciazioni di periodi differenti di presunta fine del mondo, che va ben oltre il democratico diritto di praticare a livello personale un proprio credo. Seminare panico tra la popolazione allo scopo di attrarre nuovi aderenti in queste associazioni cela senz'altro obiettivi puramente espansionistici. Sono diverse le sette impegnate in opere di questo tipo, che hanno già ottenuto il diritto giuridico del 5 per mille, ma che puntano all'8 per mille, sottraendo così ulteriori risorse economiche all'amministrazione Italia. Tra questi vorrei segnalare i più insistenti conosciuti come testimoni di Geova, in realtà operatori al servizio di un'associazione capitalistica americana, la società Torre di Guardia. Mi chiedo, abbiamo organi istituzionali competenti capaci di analizzare i reali movimenti di incendi, quantità di denaro ed immobili che questa associazione rastrella in Italia e in tutto il mondo? Siamo sicuri di avere la situazione sotto controllo? Tra l'altro a questi cittadini diventati ostaggio dell'associazione viene vietato dalla società Torre di Guardia di partecipare a qualsiasi forma di attivismo politico. Non possono votare, pena il bando interno. Estraniandosi totalmente dal sociale, a guardare bene, sono meno onesti di quanto predicano, visto che, come tanti altri italiani, hanno redditi o parte di esso in nero attraverso attività non dichiarate, esentassi, ed è sotto l'occhio di tutti. Non riconoscono la democrazia, ma l'hanno sostituita con un altro metodo politico, la teocrazia, tipico degli stati islamici. Perché non osservarli più da vicino, prima di consentire a questa associazione americana di accedere ad altri vantaggi fiscali sul nostro territorio, regolamentando meglio le loro attività in Italia? Certo che saprete recepire al meglio le segnalazioni di liberi cittadini per meglio governare una nazione, oggetto troppo spesso di speculazioni da organizzazioni che fungono da cavalli di Troia, per fini differenti, dalle apparenze. Grazie e buon lavoro. Ecco io questa lettera, ripeto, la metto in descrizione per intero. Chiunque la può copiare, stampare, chiunque, voglio dire, che non è mai stato un testimone di Geova, che però li conosce, li osserva e da buon cittadino ognuno di noi ha la responsabilità di comunicare con le istituzioni, alle istituzioni, per proteggere i più deboli, per fare in modo che il nostro governo possa meglio regolamentare certe situazioni, porre dei veti, obbligare a procedere nel rispetto dei diritti umani. Insomma, essere meno furbi, ecco, è nostra responsabilità. Tutti noi abbiamo l'obbligo di agire in questo senso. Se pensiamo che qualcun altro debba sempre fare quello che è giusto e noi semplicemente lagnarci, criticare, parlare, ma senza fare nulla, senza alcun tipo di gesto importante, ecco, è ora di agire, dico a tutti, e assumersi ognuno di noi la propria responsabilità di cittadini, a protezione di quelli che sono nostri parenti, colleghi, amici, conoscenti, perché è giusto, perché è giusto che ognuno di noi si faccia carico di quanto accade, di quanto è sotto i nostri occhi. Bene, un saluto, alla prossima.